La torre eoliana, detta anche orto eoliano, è un sistema per la coltivazione di ortaggi in assenza di terra, che sfruttando il principio dell'idroponica, permette la coltivazione di medie o grandi quantità di ortaggi in ogni stagione, in piccoli spazi come balconi o terrazzi. Il sistema funziona con un ricircolo di acqua arricchita di nutrienti naturali. In una torre eoliana, gli ortaggi, potendo alimentarsi in maniera calibrata, avranno una crescita più rapida riuscendo a raggiungere la piena maturazione in metà tempo rispetto alle coltivazioni in vaso o nel terreno.